Tre piani di cui due interrati chiusi da anni, 240 posti totali, un milione di euro per renderlo di nuovo pienamente fruibile. Sono i numeri che descrivono la situazione del parcheggio San Giorgio di Pistoia, un polmone di sosta a due passi dal centro da tempo sottoutilizzato. Realizzato nel 2009, già in parte chiuso nel 2020 per l'allagamento dei due piani interrati a seguito di una forte pioggia, più volte oggetto di proteste per il degrado. Il 2024 potrebbe essere l'anno della svolta, grazie alla gara tuttora in corso per la sua completa riqualificazione. Abbiamo partecipato a un bando della regione toscana per mezzo milione di euro e altrettanto mezzo milione ce lo metterà il comune di Pistoia. E quindi con un milione di euro verrà completamente risistemato il parcheggio, soprattutto nei piani inferiori che in questo momento sono chiusi. Sono chiusi a causa della scadenza dell'antincendio e a causa anche della cattiva sicurezza che aveva questo parcheggio, nato un po' male fin dall'inizio. Nel progetto di ristrutturazione si prevede di chiudere ermeticamente alle persone i piani inferiori, nel senso che si potrà accedere solo con la propria auto. Per andare poi a riprendere a piedi il proprio mezzo parcheggiato sarà necessario avere un tagliandino da ritirare al momento della sosta. Ci sarà un sistema efficiente di telecamere, ci sono già su questo piano, verranno implementate anche nei piani inferiori. Verrà ristrutturato anche quel piccolo edificio che vedete alle mie spalle e che diventerà l'ufficio dove avrà sede il ritiro dei permessi di ogni tipo per la ZTL. Anche le strade intorno verranno sistemate, finalmente risolveremo la questione della piccola strada che sta tra il parcheggio e l'edificio La Cattedrale, il nostro piccolo centro fiera di Pistoia. Che tempi ci sono? Allora, la gara è in corso di svolgimento, contiamo di, insomma, entro il mese di marzo di attribuire la gara a una ditta che si occuperà della ristrutturazione e quindi speriamo che nei mesi caldi, diciamo, maggio, giugno, i lavori inizino. Tra l'altro non dovrebbero essere nemmeno lavori che durano tantissimo, forse addirittura per la fine di quest'anno si può immaginare di riaprire il parcheggio.